Durante la conferenza stampa della Guardia Costiera di Agropoli sull'operazione Alento River che si è svolta la scorsa settimana, il procuratore capo del Tribunale di Vallo della Lucana, Antonio Ricci, ha preso parola anche riguardo i controlli agli stabilimenti balneari per la stagione estiva, che si prospetta impegnativa per le autorità. Sapete bene che è un'attività che abbiamo cominciato, ma ovviamente credo che i miei predecessori abbiano comunque fatto questo tipo di controlli. Per me c'è una sorta di ordine da dare e di priorità da seguire. Per me questo è un altro tipo di controllo che va fatto, va fatto come dicevo prima che inizi la stagione estiva, in modo da consentire a tutti in questa fase preparatoria, perché tra poco cominceranno i lavori di ristrutturazione, di adeguamento, di aggiornamento, si farà anche questo tipo di lavoro, perché anche quello fa parte sia di un adeguato controllo del territorio, della salute e del mare, sia come contraltare la possibilità di sfruttamento economico di questo territorio. Queste le parole del procuratore Ricci che chiede mostrando la determinazione delle autorità nel salvaguardare il territorio cilentano. Il territorio va salvaguardato anche per questo, non è soltanto un ulteriore processo penale e fascicolo processuale che si crea. Non è questo, è l'obiettivo che conta e per noi l'obiettivo è ovviamente la tutela dell'ambiente.